L'attacco statunitense sulla base militare siriana viola la legge internazionale. Washington ha compiuto un atto di aggressione contro uno Stato sovrano, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Dalla Ministero degli Esteri si avanza l'ipotesi che gli Stati Uniti abbiano deciso l'azione con anticipo, sfruttando la strage con i gas come pretesto. È chiaro che questo attacco sia stato preparato in precedenza. Ad ogni esperto risulta chiaro che Washington lo abbia deciso prima ancora dei fatti di Idlib. Si tratta di un pretesto per una dimostrazione di forza. Reazioni positive arrivano da Londra, dove il Ministro della Difesa, Michael Fallon, ha giudicato l'attacco molto limitato e appropriato. Fallon ha precisato che al Regno Unito non è stato chiesto di partecipare all'azione, ma che lo stesso il governo britannico la sostiene in pieno. Per il responsabile della difesa, i missili statunitensi non rappresentano l'inizio di una nuova campagna bellica in Siria.